Abbiamo conti in ordine e i conti in ordine li abbiamo non aumentando le tasse ma accompagnando il risanamento con misure di sviluppo e di promozione della crescita. Quindi il lavoro fatto in questi anni dal governo continua e continua con il binomio riforme-crescita. Riforme-crescita portano anche a mettere a posto i nostri conti. Il secondo messaggio è un messaggio di impegno perché sappiamo che possiamo e dobbiamo fare meglio che i numeri, che sono numeri positivi, che migliorano, devono tradursi e non sempre questo è facile in conseguenze per le famiglie e per le imprese. Noi non siamo interessati soltanto al miglioramento delle cifre in termini di crescita economica o di occupazione ai macronumeri, siamo interessati alle conseguenze di questi numeri in termini di economia reale, di riduzione delle diseguaglianze, di benessere. Per questo dico un messaggio di impegno e cioè di continuazione sulla strada seguita in questi anni, sulla strada delle riforme e di quello che hanno prodotto.